ciao a tutti bentornati sul mio canale benvenuti in questo nuovo video allora oggi voglio parlarvi di un nd e di un personaggio famoso un personaggio che poi è morto in maniera definitiva non tornando più nel 1999 ma che in età non troppo avanzata parliamo degli anni 80 esattamente del 1984 ha avuto un nd e a seguito di un arresto cardiaco dovuto a dei farmaci e parliamo del nd e dire u6 di giordania la regina moglie del re usain di giordania racconta che il marito soffriva di forti crisi di aritmie una malattia con cui dovette convivere fin dagli anni 70 ed era costretto ad assumere degli anticoagulanti per rendere più fruido il suo sangue e quindi per evitare che questi colpi di aritmie cardiache provocassero degli infarti o comunque dei blocchi ai vasi sanguini il fatto sta che con gli anni dopo appunto che ebbe questa crisi nel 1984 si capì che erano più pericolosi farmaci che gli davano che non fa la ritmia in se stessa infatti il farmaco l'ha quasi ucciso in quel gennaio 1984 la regina racconta che in quel giorno nel gennaio del 84 era ad acaba con degli ospiti ufficiali ed era in attesa appunto del marito re usain che proveniva da amman dove era stato in visita ovviamente parte del regno e in visita a tutta la parte amministrativa di amman quando ricevete una telefonata di emergenza suo marito il re usain era in pericolo di vita immediatamente la regina prese un volo per recarsi al capezzale del marito quando arrivò seppe che usain aveva improvvisamente accusato un epistassi quindi riusciva del sangue dal naso mentre si recava ad iwan al nawah con suo fratello a san principe della corona a causa dell'anticoagulante l'emorragia nasale si era rapidamente trasformata in un grosso problema emorragico tanto che non si riusciva a fermare questa emorragia probabilmente qualche capillare era diventato permeabile a causa del farmaco e non riusciva a fermare le pistassi il problema divenne più grave il medico personale arrivò rapidamente al capezzale di re usain ma la faccia del re era già colore del gesso mentre il medico preparava par si preparava a fornire dei farmaci coagulanti e a praticare quello che era la medicazione adeguata per questo caso re usain diventa marmoreo il medico capisce subito che in arresto cardiaco ascolta al cuore e non c'è nessun battito re usain era praticamente morto in quel momento il medico inizia alla rianimazione cardo circolatorio nel frattempo viene raggiunto dai paramedici dell'ambulanza che era arrivata in suo supporto e cominciano tutte le attività per rianimare re usain una volta rianimato ripartito al battito cardiaco cominciano a fargli delle trasfusioni per rimettere in sesto il re e bloccare questa emorragia fornendo del sangue non coinvolto da questo farmaco che forse preso in dosi eccessive o forse preso in dosi sbagliate aveva portato appunto a questa grande epistassi e questa grande emorragia la regina racconta che quando finalmente arrivò capezzale del marito di re usain appunto era stabile e le trasfusioni avevano fatto effetto re aveva ripreso un certo colorito ed era molto tranquillo tanto che disse la moglie non ho sentito nessun dolore non ho avuto nessuna paura che nessuna preoccupazione ma vediamo dal racconto che re usain fa la moglie cosa è successo re usain si ricorda di essersi sentito mancare improvvisamente si è trovato immerso dal buio da questo buio che non incuteva timore non incuteva niente non riusciva a capire come mai c'era così buio poi improvvisamente si è sentito come staccare da qualcosa si è ritrovato come in una stanza ma non era nella stanza era verso il soffitto della stanza e guardando verso il basso ha riconosciuto i medici e che armeggiavano intorno un corpo dopo qualche momento in cui alleggiava sopra questo corpo ha capito che il corpo era esattamente il suo corpo lui dice che si sentiva come uno spirito libero la sensazione era piacevole non aveva nessuna paura non aveva nessun rimorso per per il suo corpo lì riverso al come dire riverso su questo divanetto dove il medico cercava di rianimarlo aiutato dal gruppo di paramedici ricorda che galleggiava sopra il suo corpo e che era una sensazione veramente piacevole quindi si sentì risucchiare sempre più verso l'alto e vide il tunnel praticamente passò le fasi basiche dell'ende e attraversò il tunnel e sentendosi sempre meglio e sempre più rilassato vide una luce brillante che gli veniva incontro comprese in quel momento di essere defunto di essere morto e quindi di star andando via e quindi ebbe un pensiero improvvisamente di bisogno di dover tornare che c'era ancora delle cose che doveva concludere all'improvviso oltre a sentire il calore l'amore di questa luce che si avvicinava senti se questo è il tuo desiderio torna indietro e quindi lui ripete devo tornare devo tornare devo tornare e man mano che diceva questa cosa si sentì respingere verso il suo corpo si rivide nella stanza e poi si sentì risucchiare dalla testa verso il corpo successe esattamente quello che abbiamo visto succedere in molte altre n t e una volta ripreso si appunto raccontò quanto era successo alla regina alla sua moglie e quindi lui disse che da quel momento non aveva più nessuna paura di morire e che a parte il male o la paura che aveva prima quando sanguinava poi la sensazione era stata molto piacevole questo è il racconto di re hussein che è morto poi per anzianità e malattia nel 1999 scrivetemi qua sotto nei commenti se mi avevate già sentito parlare anche questa è un idea particolare un md è successo a un personaggio molto importante in quell'epoca re hussein era un personaggio chiave per quello che riguarda il medio oriente vi porto un caro saluto vi ricordo di scrivere il canale sono il 20 per cento di voi che mi segue iscritto canale mettere like condividere i video sui vostri social perché questo è un grandissimo supporto che potete dare a me per vedere gli altri canali per venire a provarmi sul pirata o per chi fosse appassionato di coltelli venire a vedere il canale dedicato trovate tutti i link in descrizione qua sotto al video in ogni altro video un caro saluto a tutti ciao permanno ciao